Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda Ehi, cosa è successo? Ok, comunque questo è un video che porterà a vedere quello che è un modo per magnetizzare e anche convertire i Terradon Portando anche a vedere la comparazione di questi Terradon attuali, diciamo, con quelli che sono i precedenti in metallo sempre rilasciati dalla GameSocial Così da poter vedere effettivamente quanto e come sono cambiati Quindi ora possiamo cominciare a vedere effettivamente come è stata fatta questa conversione Quelli accessori che abbiamo bisogno quindi i trappanini, le lime e le tronchesine, quindi quello di cui abbiamo bisogno Quindi possiamo cominciare a rimuovere i pezzi dallo sprù ed ecco che questo è un passaggio importante Dobbiamo quindi usare un tronchesino per rimuovere i pezzi appunto dallo sprù Però dobbiamo ricordare che i pezzi non sono subito utilizzabili Quindi dobbiamo prendere un taglierino o comunque qualcosa per rimuovere gli eccessi di quello che è rimasto dallo sprù sulle parti del modello E poi usarli lime per andare a, non dico purificare, ma qualcosa di simile Cioè dobbiamo fare in modo di togliere tutta quella parte in eccesso che è rimasta In modo da poter avere il materiale successivamente da poter andare a maneggiare e manipolare e convertire Quindi questo è uno step che è primo ma essenziale Quindi prendiamo i vari pezzi e proviamo ad assemblarlo temporaneamente Magari usando anche dei patafix se serve Questo è un modo per capire effettivamente come il modello va assemblato E soprattutto vedere se ci sono dei modi per andare a convertirlo ed eventualmente manipizzarlo o altro Quindi comunque avere un test iniziale per capire effettivamente come procedere Quindi per iniziare l'assemblaggio ho deciso di incollare assieme quello che è il petto con il dorso del modello Questo per avere un punto su cui cominciare poi a lavorare per andare a vedere sia la manipizzazione che eventualmente l'assemblamento delle varie parti E quindi ho cominciato a verificare come poteva essere posizionata la coda perché ci sono due varianti per due differenti modelli E quindi ho provato a vedere effettivamente come poteva essere posizionata per andare poi a usare le gambe E se effettivamente poteva essere possibile inserire un magnete all'interno per poter fare il cambio Ecco che quindi ho verificato diversi tipi di magnete E alla fine ho visto che era fottibile usare quello che era un 4x2 mm eventualmente Quindi poteva essere una variante E quindi andiamo a fare il foro nella coda per il magnete Ricordo che non avete molto spazio di manovra Quindi se avete la preoccupazione di sbagliare Potete usare eventualmente una punta più piccola per il campanino che andate a usare In modo da usare quella per fare una guida E poi andare a cambiare la punta e quindi aumentare le dimensioni del foro Vi ricordo che dovete usare lo stesso verso il magnete Quindi usate eventualmente un modello di riferimento per il magnete In modo da avere sempre lo stesso Ed ecco che poi vi consiglio eventualmente usare un magnete più grande Per andare a usare come punta d'appoggio per inserire le magnete all'interno del modello Perché è appunto in modo da avere più grip e più pressione sullo stesso È venuto quindi il momento di andare a mettere il magnete anche nel corpo In modo da poter tenere la coda Ecco che quindi ho provato diverse combinazioni A provare addirittura ad allargare di più la parte all'interno del busto In modo da rendere più comodo l'alloggiamento del magnete Ma mi sono reso conto che la coda soprattutto quella lunga era troppo pesante Quindi alla fine ho dovuto lasciare questo progetto e magnetizzare la coda Ma anche se la parte del progetto della coda è fallito Non il resto Quindi ho deciso di magnetizzare la testa Quindi sono andato a mettere un magnete da 3x2 mm all'interno del corpo E sulla testa dei modelli Questo mi ha permesso di poter switchare da il modello di Teradon a quello del Ripterdattil Quindi mi ha permesso di fare in modo Dato che questo modello è caratterizzato principalmente dal cambio della testa Di poter utilizzare una variante o l'altra In base a quello che era preferita da parte mia Ecco che in questo caso l'unico problema che si viene a porre è la pittura Perché dovete dipingere la testa Andando a ricollegare i colori con cui avete dipinto il corpo Per la testa e il corpo Quindi dovete fare solo attenzione a quel punto Volevo fare in modo però che Gli scinchi che cavalcano i Teradonti fossero rimovibili Per poter eventualmente giocare anche i Teradonti e i Ripterdattil da soli Ecco che quindi sono andato a posizionare un magnete da 2x2 mm all'interno del corpo del Teradonte E per farlo sono andato prima a posizionare il scinco sul modello Quindi ho visto dove effettivamente doveva essere posizionato E sono andato quindi a creare un posto per un magnete Inserendo un magnete da 2x2 mm all'interno del corpo Poi sono andato a prendere gli scinchi stessi E sono andato a inserire all'interno del piede degli scinchi Un magnete da 2x1 mm Come ho fatto per il progetto del Carnosauro Trogodon Per il capo scinco presente all'interno Quindi questa volta però su dei piedi un po' più piccoli Ma ancora ottimi Questo permette sia di giocare gli scinchi da soli Teradonti Ma anche di poter mettere via i modelli senza che si rovinino gli scinchi Perché sono abbastanza delicati Questo box permette di utilizzare uno di questi modelli Sia come scinco campione sul terrodatio o ripetadattio Ma anche come capo scinco su questi modelli Quindi ho deciso di andare a magnetizzare il corpo di uno di questi modelli Mettendo all'interno del corpo e della testa un magnete a 2x2 mm In modo da poter switchare tra una e l'altra opzione I miei modelli avevano una basetta di quelle precedenti quadrate Quindi ho deciso di andare a cambiarla E usare quindi quella nuova Usando una basetta MDF da 50 minuti proveniente dalla Green Star World Perché mi serviva una basetta economica Ma allo stesso tempo che fosse personalizzabile Ho deciso quindi di andare a utilizzare del sughero ghezzo Per creare le altezze dei modelli Questo perché le normali altezze derivate da Quegli rialzi in plastica trasparente che vengono forniti Non mi hanno mai dato un senso di solidità Ok si può togliere e rimettere il modello senza problemi sullo stesso Ma si rompono anche facilmente Quindi ho deciso di andare a utilizzare qualcosa di un po' più solido Quindi andare proprio a utilizzare questo sughero ghezzo Come punti di ancoraccio come roccia Proprio per le basette su cui puoi mettere i modelli Ho deciso di andare a utilizzare quindi la coda lunga dei ripetardatti Per questi modelli questo perché rendeva il modello secondo me esteticamente più bello E soprattutto mi dava un maggiore ancoraggio come opzione disponibile E una volta tanto diversamente dal solito Ho deciso di andare più a dare l'impatto visivo ai modelli Più che la possibilità di poterli mettere da parte Ecco che quindi ho voluto ricollegarmi a quella che è l'immagine del box stesso di questa unità Perché mi dava l'idea di dinamismo di possibilità di movimento Quindi ho deciso di andare a posizionare i modelli incollandoli Usando anche la coda come punto di ancoraggio extra In modo che dessero quell'idea di movimento Come se stessero arrivando Stessero per spiccare il volo Stessero per usare questa roccia come punto intermedio per cambiare direzione E questa era l'idea che mi era venuta in mente Proprio per creare maggior dinamismo in questa unità E poi mi pare corretto anche fare un confronto con quelli vecchi di Taradonti Quindi possiamo vedere che comunque sono molto belli Possiamo vedere che anche avevo cercato il tempo addietro di fare un primo tentativo di conversione E che la basetta effettivamente è un po' diversa da quella attuale Quindi possiamo vedere che comunque sono molto belli Sono in metallo quindi un po' pesanti Quindi mettiamoli un attimo da parte E andiamo a vedere che effettivamente comparandoli con quello che sono i modelli attuali Sono molto diversi Soprattutto molto più piccoli E qui va valutato se effettivamente sono preferibili gli uni o gli altri Però come dimensione si può notare notevolmente la differenza tra quelli vecchi e quelli nuovi Vi andiamo a vedere ancora più in dettaglio E possiamo vedere che comparando anche la dimensione delle ali tra quello nuovo e quello vecchio Di per sé la dimensione stessa sarebbe molto simile Però il fatto di renderle in plastica le ha rese molto più dinamiche e molto più aperte E anche per quanto riguarda la coda per esempio È quella che mi ha suggerito per andare a prendere la coda lunga invece che la coda corta Perché invece di quella corta associata adesso ai tarodonti Prima era lunga quindi ho voluto utilizzare quella Anche gli scinchi stessi sono comparabili Ma quelli nuovi sono di appena appena più grandi rispetto a quelli vecchi All'interno si trova anche un modello tradizionale di scinco che ho deciso di realizzare In modo da creare un capo scinco a piedi questa volta Quindi ho usato il sughero grezzo per creare una base che ricollegasse come tema ai tarodonti E qui potete vedere la differenza tra quello che è il scinco attuale Con uno scinco vecchio che avevo utilizzato per creare un mio capo scinco basato sulla scheda di quest Quindi vedere la differenza che c'è tra allora e oggi Quindi molto più dettagliato, un po' più grande E decisamente si vede quello che è stata la differenza E mi piace notevolmente la pose che si ha con questo Ricordate che quando trovate questo tipo di modelli Dovete fare in modo che la base dia risalto a questa loro capacità di movimento Quindi fare in modo che la base stessa sia parte del dinamismo E se abbiamo visto un pezzo molto dinamico Ora un pezzo molto statico Perché all'interno di questo box c'è anche una rana Che funziona come segnalino E a parte le regole che possono essere utili Questo diventa molto interessante perché lo dipinto in modo tale Posizionato in modo tale Che pur essendo abbastanza pigra come modello Sembra che possa muoversi da un momento all'altro C'è quel quid come se dovesse zampettare Però è piuttosto pigra nel farlo Quindi può essere anche questo modo per giocare su un modello statico Mi sono divertito veramente tanto con questo modello Perché permette di avere veramente tante diverse opzioni Quindi se vi interessano i Seraphon Questo sicuramente sono dei modelli da prendere e da convertire Ma anche se volete realizzare qualche diorama Qualche modello un po' particolare Qui avete veramente tanto da poter soltare Perché vi dà veramente tante diverse opzioni molto interessanti Ad ogni modo Da Dino Mod per questo video è tutto Vi invito a mettere mi piace A iscrivervi al canale A suonare la campanella E a lasciare un commento Se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video Riguardo questo tipo di video Oppure se siete interessati A semplicemente assinarmi qualche domanda O qualche video a cui potete essere interessati Da Dino Mod è tutto Alla prossima